Nel mio giardino di casa c'è un ricetto simpaticissimo di nome Gigetto, insieme alla sua allegra famiglia. Di notte escono per mangiare i croccantini come se fossero dei cani o dei gatti, scrocchiando con gioia e divertimento. Poi tornano nella loro tana, forse anche nella cuccia dei gatti che abbiamo fuori casa. I nostri gatti, specialmente la mia gatta, sembrano non avere nulla in contrario a questa convivenza pacifica.